Ha preso il via ormai già da qualche ora e non senza imprevisti la fase sperimentale del piano cashback, il programma che permette di ottenere un rimborso di quanto acquistato con strumenti tracciabili. Entro il 31 dicembre, effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento, si potrà accedere a un rimborso del 10% di quanto speso fino a un massimo di 150 euro. Non c'è un limite di spesa, non ci sono limitazioni merceologiche, bar, ristoranti, generi alimentari, abbigliamento, elettrodomestici. Si potrà pagare l'avvocato piuttosto che il dermatologo o l'idraulico e l'elettricista. L'importante è che il saldo avvenga con moneta elettronica, sono invece esclusi gli acquisti online. Dal 1 gennaio 2021 il programma cashback entrerà a regime. Per aderire occorre scaricare l'app Io, a cui si accede tramite Speed, e inserire gli estremi identificativi delle carte di credito, di debito o prepagate e il codice IBAN del conto su cui andranno i rimborsi. Il centro servizi di Conf Cooperative Molise, e fanno sapere dagli uffici, è a disposizione per informazioni e assistenza nell'attivazione del cashback e se ci fosse l'esigenza anche per la richiesta dello Speed.